Johnny Depp vince la causa contro l'ex moglie e l'attrice Amber Heard. La giuria ha stabilito che Heard lo ha diffamato ingiungendole il pagamento di 15 milioni di dollari di danni. Lo stesso Depp sarà però tenuto sua volta a risarcirla con 2 milioni per l'affermazione di un avvocato, colpevole di aver definito un imbroglio le accuse di Heard. Il verdetto a New York arriva dopo un processo di 6 settimane scandito da toni pesanti su entrambi i fronti. Heard ha parlato di un passo indietro per tutte le donne e si prepara a fare ricorso. Depp ha dichiarato che la giuria gli ha ridato la vita confermando la sua estranea alle accuse mosse da Heard. Grazie a tutti.